ho bisogno di aiuto forse se la spingiamo un po da un lato si sblocca la ruota ma se la spingete da un lato le fate male ma no ma chiamiamo i tecnici a famo rompe che cazzo ci frega di sto signore mi dispiace but the time is out continuate con la gentilezza riproviamoci diamogli tempo però fate piano perché rischia di cadere